Alcuni giorni fa aveva presenziato l'inaugurazione dell'ambulatorio sociale, dichiarando la propria disponibilità a visitare gratuitamente i pazienti in difficoltà. Ma ora giunge la notizia della decisione del primario di oculistica dell'ospedale di Biella, Salvatore Giambrone, di rassegnare le proprie dimissioni senza neanche finire i sei mesi del periodo di prova. La comunicazione è in una nota ufficiale dell'SL di Biella, dove si legge che alla base della scelta ci sarebbero motivazioni personali. In discrezione invece riporterebbero screzzi emersi con altri medici del reparto. L'SL di Biella dal canto suo precisa che comunque si tratta di dimissioni condivise con l'azienda. Non essendo ancora decorso il periodo di prova, si legge non è richiesto un preavviso. L'azienda sanitaria ha così potuto venire un incontro alle richieste del medico, conciliando le motivazioni personali che ne hanno determinato la decisione con la riorganizzazione dello staff medico che darà continuità all'attività programmata. Le dimissioni decorreranno dal 31 marzo e a partire da quella data sarà individuato un direttore sostitutivo in attesa delle procedure di selezione per la riassegnazione dell'incarico, che partiranno già ad aprile. Nel frattempo, lo staff medico, composto da cinque oculisti oltre a un consulente esterno, assicureranno la prosecuzione delle attività.